ragazzi ciao eccoci di nuovo oggi ritorniamo a fare qualche esercizio sul patting green di fatto andremo a rispolverare due esercizi uno che conosciamo molto bene il nord sud ovest est indoor e poi ci sarà un video successivo per l'esercizio del training sono due esercizi che servono sia a migliorare la nostra performance dalle corte distanze ma anche legati alla velocità la palla non sud ovest est lo conosciamo molto bene ma come viene disposto in casa nostra sul nostro tappeto so che qualcuno di voi si è attrezzata con un tappeto un po più lungo per fare anche degli esercizi tecnici che mi raccomando portiamo avanti quelli perché sono fondamentati ma va benissimo anche un tappeto qualsiasi al mezzo mettiamo la nostra mucca ricordiamo di ritagliarla su un foglio di carta il diametro deve essere di 10,8 cm le distanze quali sono nei due lati più lunghi del tappeto possiamo mantenere il nostro metro metro un piede metro e due piedi quindi avremo tre palline in base anche alla lunghezza del vostro trappeto anziché quattro come siamo abituati a fare normalmente in patting green nei lati più corti ci teniamo le due palline di jolly da una distanza un po più corta c'è una regola fondamentale che andiamo ad inserire in questo esercizio che faremo in casa ossia non solo toccare la bocca finta che è posta in mezzo al nord sud ovest est ma anche la velocità della palla quindi il pat si riterrà il bucato quando toccheremo la buca ma supereremo la buca di al massimo un piede che è la velocità calcolata nel modo corretto quindi posso partire da questa posizione in questo caso ho toccato la buca e ho superato la buca di meno di un piede quindi il colpo si considera il bucato dall'altra parte se gli succederà di tirare un po' più deciso toccando la buca ma superando la palla di oltre un piede allora il colpo non si considera più il bucato il challenge del nostro dovest test rimane quello che sappiamo in base al numero di colpi che riusciamo ad utilizzare in base alla dimensione del tappeto quindi ogni palla che tocca la buca e la sopra al massimo di un piede vale un punto altrimenti vale zero e vi aspetto i vostri risultati sul nostro gruppo tra poco il secondo esercizio quello del tre e vi aspetto i vostri risultati sul nostro gruppo